Confiscati uno yacht ed un palazzo storico. Sono stati infatti apposti sigilli ai beni di Andrea Moretti, finito al centro dell'inchiesta della Procura di Arezzo sull'autoriciclaggio da oltre 25 milioni di euro, reato contestato a tutta la famiglia. A disporlo è stato il giudice del Tribunale di Arezzo, Gianni Fruganti, in virtù dei debiti contratti con l'erario. Il provvedimento è stato eseguito in questi giorni dalla Guardia di Finanza di Arezzo a garanzia del debito con il fisco per un totale di 3 milioni di euro, poi ridotti a 2,4 in sede di incidenti di eseguzione e fanno riferimento a due società dell'abbigliamento, una vicenda per la quale in passato l'imprenditore Aretino aveva patteggiato, ma adesso la Procura ha ottenuto la confisca dei beni. Si tratta dell'imbarcazione di lusso rintracciata dalla Guardia di Finanza dopo mesi di ricerche all'interno di un deposito di Pisa. Il palazzo invece è noto come Palazzo Biancapello e si trova a Firenze. La difesa di Moretti Junior comunque non ci sta. I legali sostengono infatti che il debito col fisco non esista più, estinto dal concordato con adesione raggiunto nel 2011 tra l'imprenditore e l'Agenzia delle Entrate, col quale si sarebbero saldate tutte le pendenze a 400 mila euro, cifra di gran lunga inferiore al valore dell'imbarcazione e del palazzo. I legali così proporranno a breve un ulteriore incidente di eseguzione. Grazie. 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 Grazie.